È presente un certo Homer Simpson? Temo proprio che manchi all'appello. Già, si trova a Ginevra a presiedere una conferenza sulla fissione nucleare. Questa se la bevono. No! L'ha bevuto mio papò! Ora mio papò grosso, grosso! Homer, questa è una perfetta ricostruzione della tua stazione di lavoro. Ora simuleremo una sovrattenzione di energia nel settore 8 del nocciolo. Ma che diavolo è stata dicendo? Cosa devo fare? Cosa devo fare? In nome di Dio dovete dirvelo! È una simulazione, niente può andare storto. Basta premere alla cieca i pulsanti finché non ti lasciano andare. No! 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 Questo non è possibile! Per l'amor di Dio, signore, ci sono due posti! Mi piace stare comodo! Devo distruggere l'umanità! Oh! L'ora del pranzo! Come ha potuto provocare la fusione? Non c'era materiale nucleare nel furgo? Bene, è giunto il momento della bustarella. Dunque, lei può prendere la lavatrice e l'asciugatrice che ci illustra il grazioso signor Smithers oppure scegliere il contenuto di questa scatola. La scatola! La scatola! Ascolti, Barnes, qui si tratta di un grosso problema, non...